ciao a tutti ragazzi benvenuti allora sono qui con questo mio nuovo video perché in dv tra le pagine web di facebook e altre pagine su internet io leggo questa molte discussioni che parlano dei vaccini novax alcuni ritengono che che non bisogna fare questo vaccino alcuni ritengono che sia pericoloso il virus non esiste allora ragazzi io avevo tanta paura come chiunque altro non ero favorevole a questo vaccino del covid però alla fine per motivi di lavoro ho dovuto farmi questi vaccini anche se leggevo che con gli anni con il tempo potessero portare problemi problemi alla salute e quant'altro allora a questo punto mi sono domandato ci sono molti scienziati scienziati studiosi molte persone che hanno lavorato in tutto il mondo a questo progetto il progetto di questo vaccino per il covid e quindi non sono persone stupide non mettono a rischio la loro c'è la la vita di di persone anche se tutto non era in dubbio mi sono fatto coraggio e ho fatto i due vaccini le dose dei vaccini e il vaccino che ho fatto il pfizer questi vaccini all'inizio come ci ho parlato anche su tik tok all'inizio il primo vaccino mi ha scombusturato un poco mi ha aumentato la frequenza cardiaca pur avendo problemi diciamo le valvole del cuore soffrendo un po di ansia da stress quindi ho dovuto spiegare al medico al dottore proprio dove mi stavano per vaccinare a parte ti fanno scrivere tutto quello che hai prima di farti il vaccino di fanno ti chiedono molte domande ti chiedono sei che malattia se hai malattie che tipo di malattia hai tante di queste domande l'importante è compilarlo bene poi lo leggono e poi attendi e ti chiamano andato dal medico dal dottore che mi stava per vaccinare e c'era anche l'infermiere vicino gli ho detto di nuovo i miei problemi e loro tranquillamente hanno detto senti se sei qua è per un motivo a non avere paura abbiamo letto te la senti ho detto vabbè se il vaccino è sicuro lo faccio alla fine loro mi dissero abbiamo già vaccinato un milione di persone a napoli perché vivo in provincia di napoli milioni di persone e non è successo nulla anziani e tutto e allora ho detto ok mi hanno chiesto il braccio dove volevo fare il vaccino alla fine ho detto vado farsi in braccio per me è indifferente mi hanno fatto questo vaccino mi hanno fatto attendere 15 minuti in una sala d'aspetto all'improvviso mi è salita questo questa tensione questa alcardia mi sono alzato loro mi dicevano sì ma io seduto era peggio e sono stato fuori con un medico e ho parlato e mi ha tranquillizzato dopo aver tranquillizzato al quindicesimo minuto me ne sono andato tranquillamente e gli effetti che avevo avuto sono gola secca poi quando dovevo bere non riuscivo a ingoiare l'acqua un bicchiere d'acqua non lo riuscivo a bere del tutto ma solseggiavo giusto giusto e questo me l'ha fatto per una giornata poi ho avuto un po i campi alla testa a volte dei mal di testa e poi tipo pressione un po pressione al petto e dopo due tre giorni è sparito tutto però se continuava dopo due tre giorni dove dovevo chiamare direttamente all'asl alla fine poi parlando con altri medici nel campo mi hanno detto che comunque l'asl ha tutto per poter guarirti quindi siamo una situazione nelle mani sicure a meno che uno non ha una determinata malattia grave può fare c'è conflitto con questo vaccino allora a parte i vaccini ho fatto tutte e due la seconda dose non mi ha portato niente mi sono sentito come un leone quindi è tutto tutto ok quello di solito prende o alla prima dose qualche piccolo malessere o alla seconda dose dopo di che io ho notato che questo vaccino ti dava più energia più forza nel momento in cui uno per esempio io mi obbligavo solo con la birra nel momento in cui un sabato sera decidi di uscire o bere qualcosa è come se non avvertissi nulla ma quindi questo vaccino penso che fa molte molte difese crea molte difese immunitarie questo è un mio pensiero però non ne sono sicuro almeno questo è l'effetto che mi ha fatto però voglio ribattere su questa cosa che le persone vogliono farsi farsi il vaccino il vaccino comunque è stato creato ormai milioni se non miliardi di persone in tutto il mondo l'hanno fatto ci sono stati casi di morte eccetera eccetera però ora nella gravità della cosa non si sente più quindi io credo penso che comunque è una cosa di sicurezza bisogna bisogna farlo oltre al vaccino volevo parlarvi di questo coronavirus che nessuno ci crede il coronavirus non esiste ragazzi allora il coronavirus non esiste come mai sono state tutte queste morti in tutto il mondo se non esistevano perché ci sono state tutte queste morti perché sono stati inventati i vaccini allora siccome io sono stato fatto parte dell'esercito e sono stato in una caserma operativa quindi sono stato per un anno in questa caserma noi eravamo addestrati il mio periodo era il 99 il mio periodo dove io ho fatto il militare e nel 99 già eravamo anche addestrati perché c'era la guerra in kosovo eravamo addestrati anche negli ultimi quattro mesi per poter affrontare affrontare proprio una guerra infatti ricevemmo una lettera del ministero che noi di questa caserma dopo il giuramento noi giuriamo che siamo fedeli alla patria e non abbiamo l'obbligo di tirarci indietro se succede qualche cosa qualche cosa di una guerra o qualcosa alla fine ci fu questa guerra del kosovo ci arrivò questo mandato dal governo il generale lo filmò e poi vennero i nostri comandanti di compagnia alla donata di mattina ci spiegarono la situazione dissero dovevamo fare un corso in inglese accelerato per due settimane perché ci serviva in pratica capire almeno quantomeno parlare l'inglese basico perché c'era probabilità di allenarci insieme agli americani alla fine addestrarci insieme gli americani perché perché c'era il rischio che noi potevamo essere chiamati per una missione di un mese massimo due mesi alla fine abbiamo fatto questo corso abbiamo fatto degli addestramenti con il personale ci siamo preparati c'era il rischio che potevamo andare a fare la guardia e i viveri in kosovo solo se c'era l'emergenza però venivano chiamati già i militari quelli di firma i ufb alla fine noi abbiamo preso posto al posto degli ufb ad aviano a fianco alla base della nato facendo nella polveriera ronde turni a questa polveriera che poteva essere anche attaccata e vabbè con sto discorso comunque non c'entra niente però noi abbiamo studiato anche molte tecniche sulle mine sulle bombe bombe anti carro anti uomo eccetera eccetera e tra cui ci hanno insegnato che prima o poi le guerre potevano finire negli anni dopo il 2000 2000 qualcosa le guerre potevano non esistere più ma la guerra non può mai finire e quindi si usano altre armi e queste armi come armi nbc attacchi nbc nucleari e batteriologici e loro già nel 99 erano conoscenza che potessero uno stato o qualche stato potesse creare un'arma batteriologica e come infatti questo virus è un'arma batteriologica e cosa serve questa arma batteriologica l'arma batteriologica serve appunto come la guerra per prendere potere far calare far morire le persone portare miseria portare distruzione ad uno stato e questo è questo è successo un po in tutto il mondo alla fine quindi non dire che il virus non esiste perché il virus per anni è stato studiato come poi è stata studiata anche prima la bomba nucleare e tanti tipo di armi attraverso il virus per anni addirittura addirittura alcuni hanno studiato che intorno al nostro pianeta girano i satelliti e questi e noi siamo sempre sotto controllo tramite questi satelliti ci possono essere in orbita satelliti militari tipo russi americani e poi vi sa se l'italia ha qualche satellite comunque sempre puntati per sentire per osservare per registrare pensate alla potenza di un satellite può ascoltare una conversazione all'interno della propria abitazione e questo però gli accessi a questo satellite ce l'hanno solo chi tipo l'fbi la polizia speciale carabinieri speciali sono codici che hanno solo loro per accedere tramite computer a questi satelliti a tutti questi servizi e poi da un satellite si può comandare un missile pensate che già all'epoca molto prima del 99 noi avevamo un razzo un portarazzo su un treppiedi che veniva comandato tramite gps noi un missile lo potevamo lanciare da un punto ben preciso immagine d'errore era di penso 50 cm come ricordo quindi tu davi le coordinate precise e quello cadeva proprio in quel punto là poi oltre a questo ci sono addirittura proiettili che possono attraversare di grande calibro che possono attraversare una parete in cemento armato quindi ragazzi per non fare la guerra fredda hanno cercato di inventare questo tipo di arma arma batterologica però secondo me questa non è stata una guerra voluta ma è stata qualcosa che è sfuggito dal laboratorio ma questi laboratori dove progettano queste cose sono di massima sicurezza però basta un piccolo una piccola diciamo distrazione qualcosa e può scappare fuori e così secondo me questo è il mio punto il mio pensiero secondo me è questo che è accaduto solo che la cina la cina si è tenuta la cosa perché pensava che era meno grave e si è inventato il fatto del pipistrello eccetera eccetera solo che alla fine alla fine io avevo pensato proprio all'inizio questo fosse stato un attacco per mandar giù gli Stati Uniti perché in quel periodo la cina non andava d'accordo con l'America perché gli americani tendono sempre almeno prima ma non con questo presidente tendono sempre a un po' diciamo la mentalità dello stato americano è quello di avere tutto nelle proprie mani quindi vuole attaccare i paesi deboli come l'Afghanistan eccetera conquistare il petrolio per questo esistono tutti questi casini queste guerre poi vengono gli islamici questi dell'isis che si difendono e attaccano le torri gemelle perché dicono hanno attaccato le torri gemelle appunto per dire voi siete un popolo che pretendete da noi voi ci dovete lasciare stare nella nostra terra non dovete venire nella nostra terra alla fine con questo presidente poi si sono ritirati perché appunto poco tempo fa c'è stato un attacco e sono morti parecchi italiani e parecchi americani invece il popolo italiano c'è il popolo italiano il corpo militare italiano l'italia è un paese pacifico da molti aiuti a tutti gli stati è un ma più per la pace e per l'unione appunto esiste l'onu che l'onu esiste per mettere pace per sostenere un paese una città in difficoltà dove c'è la guerra adesso non mi dilungo perché ho spiegato già la storia del vaccino quindi non dire che il virus non esiste il virus è stato creato in un laboratorio ed è suggerita la cosa di mano perché noi avevamo fascicoli già su questi tipi di attacco batteriologico e nucleare infatti facevamo anche l'esercitazione per gli attacchi nbc dovevamo metterci una tuta in modo veloce e la maschera anticassa e montare il filtro entro 10 secondi entro 10 secondi se non riuscivi a metterti prima la maschera e poi la tuta e l'infetto e poi devi passare nel sistema di disinfestazione poi comunque già sapevamo che in questo caso come l'attacco nbc o di questo virus le città dovevano essere chiuse subito dopo i primi cento dopo i primi mille casi non cento casi in primi mille casi dovevano essere chiuse già avvertire alla popolazione di non uscire di casa iniziare a disinfestare dovevano esserci le forze armate per strada e poi i corpi quando prendi un certo di virus dovevano essere bruciati come infatti avete visto che molte persone che hanno preso questo virus sono morte sono state letteralmente bruciate appunto anche perché quando uno muore caccia dei liquidi e questi liquidi sono infetti e quindi non finisce mai questo virus evolve, cammina sempre può camminare in una fogna diciamo in parecchie parti il virus non è nell'aria ma si diffonde cioè non è nell'aria il virus questo tipo di virus attacca tramite uno starnuto quindi vola volando si appoggia si attacca alle superfici tipo legno plastica e ci sono le durate esempio sul legno dura questo tipo qua sulla plastica dura un determinato tempo e quindi durante durante tutto questo tempo può può essere assorbito oltre questo questo è un virus che diciamo evolve evolve nel senso che nel tempo dopo 15 giorni un mese inizia ad evolversi quindi non non è più chiamato coronavirus ma è chiamato in un altro modo perché si modifica è talmente letale questo virus che poi magari se si evolve si evolve si evolve invece di prendere il coronavirus prendi un altro tipo di malattie che attacca altre altre zone del corpo poi già nei film di fantascienza ci sono molti film che parlano già di un attacco tipo virus eccetera eccetera come i film americani perché questo perché anche gli americani hanno la conoscenza e gli americani a volte quando sono a conoscenza se qualcuno lo scopre iniziano già fare un tipo di film di fantascienza e quindi ragazzi questa è una cosa che è sfuggita di mano però purtroppo cioè purtroppo io credo che non dovete avere paura di farvi il vaccino non dovete avere paura di essere attaccati da questo virus perché comunque la sanità è preparata ormai è preparata a tutto ciò poi è inutile pensare il virus non il virus perché ragazzi quello si muore all'improvviso anche mentre e non niente mentre stai camminando quello ci vuole un attimo per morire quindi non fatevi tutte queste preoccupazioni e queste cose si dite vabbè se mi faccio il virus cioè se mi faccio il vaccino la cosa mi protegge il corpo è più forte è più forte e non puoi non ha non hai una reazione dove ti può portare in ospedale quasi in fin di vita avendo il vaccino bastano un paio di medicina così e ti riprendi dopo una settimana 15 giorni ti metti in quarantena e questo è ma comunque di pericoli io so da quando ho fatto i due vaccini di soldo sto senza la mascherina solo nei posti più affollati metto la mascherina quando entro in un luogo di uso uso la mascherina e poi per il lavoro che ho fatto e poi non è solo la mascherina che vi protegge dal virus uno bisogna disinfettarsi le mani e seguire tutte le istruzioni e queste cose non si riescono a fare non bisogna creare affollamento però io ho fatto un mestiere dove a che fare ogni due tre ore con sei persone otto persone differenti all'aperto e quindi con questo vaccino anche se uno aveva il virus addosso non ha avuto modo di prendere questo coronavirus quindi secondo me io mi sono fatto una domanda ma può essere tutte queste persone ogni giorno cioè di media conoscevo tra i sei diciotto venti trenta persone al giorno poi stanno a contatto in mezzo alla gente probabilmente mezzo milioni di persone non c'è uno che ho incontrato che ha il virus e mi ha parlato quindi credo che io sono stato protetto anche da questo vaccino pfizer questo è quindi non impressionatevi i novax inutili che fate tutte poi ognuno la pensa in modo diverso potete fare anche tutto questo casino io credo dovrebbero cambiare un paio di legge italiane le leggi e avere molto più controllo più serietà da parte delle persone da parte dello stato questo è per evitare che qualcuno si ammali poi adesso c'è già cento voci in giro vabbè quelli a ottobre ci chiudono chiudono di nuovo le regioni eccetera eccetera per via del virus ma perché il virus sta solo da ottobre in poi il virus se c'è c'è sempre quindi o si prendono le precauzioni che si devono durante tutto l'anno o chiudete o non chiudete per me è una stupidità perché alla fine nei mesi diciamo che lo stato decide il virus non c'è poi dobbiamo chiudere perché perché ci sono tutti perché ci sono tutti questi casi allora quello che ho sempre detto io perché perché non fate attenzione prima dobbiamo fare attenzione noi personalmente e seguendo le cose basi che vi ho detto prima mascherina le mani disinfettiamoci le mani non facciamo affollamento manteniamo le distanze solo così possiamo essere più sicuri uno due se noi non siamo di coscienza c'è chi deve guidarci tipo polizia carabinieri finanzieri e poi vigili urbani oppure chiunque chiunque esso sia per proteggere le altre persone e noi stessi alla fine non è che non si fa questo già si fa però purtroppo non riescono a coprire tutta la popolazione poi quello che io dicevo all'inizio ogni porto ogni ogni ristorante ogni ogni singola parte in cui si entra c'è bisogno di controllo controllo c'è stato ci sono anche i controlli della temperatura disinfettante però chi lo fa chi non lo fa l'Italia è così in tutta Italia è così e quindi bisogna essere di coscienza e non mancare a questi controlli a rispettare se stessi e rispettare le persone questo è il punto perché se non rispetti queste regole non rispetti te stesso perché ti metti cioè a rischio ti metti tu per prima cosa a rischio e metti a rischio anche le persone oppure le persone mettono a rischio te questo è il discorso vabbè ormai io credo che tutto sia cambiato già dagli inizi che è successo questo ha passato già due anni per questo ora mi sono permesso di parlare perché si sono calmate le acque anche se su Facebook io già scrivo le prime cose quando senti di questo virus ero a conoscenza di queste cose di questi attacchi NRC batteriologici come difendersi dagli attacchi batteriologici purtroppo la gente all'inizio mi ha preso un po' ma questo è stato dicendo se ne è andato con la testa poi dopo tempo se ne sono accorti con il tempo iniziavano a parlare dei giornali tutto questo e quell'altro la prima cosa che ho fatto è che ho avvisato tutti i familiari ma giustamente diciamo questo non c'è con la testa questo c'è ma che sta dicendo come fa a sapere se non è un medico non è niente lo so perché ci hanno addestrato e quando ci hanno addestrato ci hanno spiegato il motivo per il quale indossare una maschera per un attacco NBC il motivo indossare una tuta i tempi e poi cosa bisogna fare e poi ci hanno mostrato proprio il fascicolo su come agire in caso di queste queste attacchi questo è ragazzi sto parlando da 27 minuti ho parlato un po' di tutto non solo del virus questo è solo un mio pensiero poi ognuno può pensarla come vuole ok grazie a tutti voi per aver visto questo mio video un abbraccio e poi mi farò vedere sui canali su internet sui canali di youtube o qualche canale di tiktok vediamo un po' questa era una cosa importante che io ci tenevo a dire perché non amo fare molti video una volta ero diventato anche un youtuber però non avevo molto tempo per poter registrare video non avevo tante idee mi rompo le scatole di mettere giù le idee e lavorare ore e ore davanti a un video davanti a un computer per modificare eccetera eccetera è una cosa che non mi appassiona più di tanto però se vedo risultati magari farò video video interessanti video importanti su alcuni argomenti alcune cose che posso sapere che io posso sapere sono sicuro di sapere ok un abbraccio a tutti da enzo tessitore alla prossima ragazzi commentate il video lasciate un like e io vi risponderò ok se volete potete anche seguirmi sui canali ciao a tutti ragazzi un abbraccio